Auguri! Tu l'ho porto! Diciamo che sono stata fortunata di far parte di due storie che rappresentano, che fanno avvicinare due mondi diversi. In Crash sono proprio vite di tante persone diverse nella città più grande del mondo, dove ci sono tutte le tradizioni, tutte le culture, tutte le lingue. In questo caso mi ha avuto una ragazza indiana che si innamora di un ragazzo pugliese. E come faccio a non innamorarmi di Luca Argentiero? Perché poi la cosa più divertente di tutte le giovanissime che mi hanno fatto le domande non hanno chiamato Nicola come personaggio. Com'è stato essere innamorato di Luca Argentiero? Quanto non è Nicola? Quanto non è forte Nicola? Luca non so, una dei due. E poi il nostro matrimonio sicuramente cerca di vincere due famiglie che sono molto presenti, molto tradizionali, che hanno una cultura molto rica e presente. Però penso che l'amore dice tutto. Invece le mie amiche non sono d'accordo. No, parlate del matrimonio, perché intanto lo fanno domande e le mie colleghe fidanzatissime da non so quanti anni convivono o tutto, non ci credono all'atrimonio. Io invece ci credo. Ma non solo fidanzata. Quindi, forse dopo il fidanzamento, cambierò l'idea. Mi amico di fermare, lo dico, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio. Grazie. Grazie.